La fetta del cuore è già una nuova vita e ti è tanto in mare sparta cambiando opinioni e il male del giorno è pochi chilometri a sud per il mio riporto per il mio buon giorno ma è un volo a planare dentro il peggio remodel questo carretterà di questa vita a valere è un volo a planare per essere giudati qui crocifissi al mur ma come ricordarlo non sono una signora una tutta del cuore non sono una signora una tutta del cuore ma come ricordarlo ma come ricordarlo non sono una sinora ma come ricordarlo Grazie a tutti. 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 a tutti.